Bella ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi su Fortnite è possibile farlo direttamente dall'item shop di Fortnite. Basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sul supporto al creatore in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Quindi ragazzi ringrazio tutti coloro che dicevano di supportarmi e buona visione. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Figliato a picconate. Ciao, pre-martie. Morto. Non mi sento atti. Non ce l'ho purtroppo. Vorrei andare a chiamare subito Tiltro. Vabbè, ricordo io. Parto da blu, ok, sei morto. Altro qui dietro. No, 2-99 l'ho fatto. Arrivo, Marty. Aspetta, prova a prendere il pump giù. No. Ok, se. Devo scappare il muro e arrivo. Arrivo, ragazzi. Ci sono, Marty. Marty. Ne ho tre da me, Marty. Non ce l'ho cercando di scappare pure io. Io provo a non morire col falò. Te l'ho messo anche apposta. Arrivo, arrivo, arrivo. Pucciole, è vivo? Ci penso io. Dove vuole restare, mi sa. Andiamo, giolo. Entriamo. Ed's fucking luck, vuoi? Medikit. Ah, tieni, Marty, tieni. Ragazzi, ho tre colpi di pompe in canna. Non, nient'altro. Io ne ho uno. Minimati, ma ci sceghi. Ok, posso, 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 posso. Ce n'è uno qua sopra, ho tappato. Dove qui sopra? Ok. Cioè, io lo sento qua sopra, poi non so. Io ho sei shadow bomb, mamma mia. Bravo. Ah, mi ha dato tutto il cuccio, mi ha dato pure il ritmo. Ragazzi, guardate, sono di mini là. Ti vado a prendere. Arrivo, Marty, quant'è? 29, 29. Lasciamene uno, per favore, Marty. 29, bravo. Ah, mi dà le smocche. Non volevo, non volevo. Vado tranquilla. C'è tutta qua, c'è tutta qua, c'è tutta qua, c'è tutta qua. Dove uno qua dietro, mi fa? Eh, che palle, metta a lui. Buon hit? Ah, tutto, tutto, tutto. Mi sembra giusto, non lo rischio. Rubato malissimo. Infatti, sei veramente un lordo. Io te la dobbiamo. Poi, adoro lui. Ok, per me possiamo andare. Torniamo tutti quanti, sei rift, ritiamo tutti insieme, almeno. Io direttamente, io direttamente. Io non farò più se lo te lo puoi fare. Dov'è? C'è tutta me, ti sei? Ridicolo, sto caldo. Pa, pa, pa. Però era knockado, quindi... Sì, ce l'ho. Vado a farmi uno scildone. No, non toccato, è mio. Oh, ok. Mamma mia. Allora, tu marti cinque ce n'hai adesso? Yep. Sono morti alive. Sono tanti alive. Puccio, quanti kill hai? Io due. Tu marti... Tre. Dicisette. Qui, qui gente? Sì, fai, tano. Sono tre banane. Tre banane. Ti piace la banana, Mattiù? Questi stanno srollando. Morto due, morte tre? Cazzo, mi ha sciolto. C'è un pappo nuovo, dimmi, se ti prego. Eh, non lo so. Vai, stila. Ti va a cucciare un altro? Prendo il mini? Io mando il VAR, a te. Cuccio, sono io. Ah, che si vedavano lì, perfetto. Qua, qua, non ha? Ti va a cucciare un attimo due mini, cucciano. Pappo nuovo. Gigi. Ragazzi, volete una mano ora o no? No, 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 no. Perfetto. Andiamo qua, allora. Oh, finalmente non mi ha stilato un kill. Ma prima te l'ha stilato a cucciare. No, non mi ha vorrei. Sto regato, non importa. Gli ho fatto tutti. Dicamocela bene, regà, perché abbiamo un sacco di killirli. Eh, sì, sì. Mi piace un falò, cucciano. Marti, qui, Marti. Non la vai a prenderesti, Marti. Senta. Ok, vai. Tu che quelli hai, però, Mattiù? Oh, un medico. Ok. Ho un Rift, te lo vuoi usare, cucciano. C'era anche un altro, però usalo a te. Vai. Vai. Cazzo, non mi toffullato. Stanno verso il... Il... Cosa? Eeeh... Il condotto d'aria. Fine. Hey, buttiamo il... Io prendo l'aground, eh? No, no, siamo trovati. No, no, siamo trovati. Mi serve una mano. Parissimo. No, 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 siamo qui. Marti, qui, Marti. non l'ho fatta neanche una qui prendono i mini ah vabbè ma non importa c'è un raid deploy quasi quasi oh mio dio uno mi sta ci sono un raid deploy no no non c'è ancora c'è tutto qua dentro lasciano lascia colpe di pump l'ho finito praticamente mai colpe di pump anche io dopo il bar non ho pad ok ho trovato un altro rift martin sono vicino a voi volete restare pure voi c'è un cuoio ok andiamo sopra la montagna siamo belli alti noi andiamo sopra la montagna ci sono anche due di allo sfera ci sono anche due di allo sfera vedi dove ho pingato io ce ne sono di più qua qua è pieno da me qua fai da me quindi vieni da me fida di fila vieni qua ce ne sono sempre due c'è uno su se la montagna martin ho chiesto sotto parco sotto parco proprio sento morto uno ce ne sono due noccati non li uccisi io però provo a spessare un pochetto martin almeno ti do la kill in casa infatti non è morto uno non ho preso la kill però ti è buttato fuck ok uno l'ho fatto cucciolo la sei ok uno pure un altro rift ah me l'ha serato qualcuno dietro matio si guarda che la vede martin non ci penso ora non ci penso ora è su rift è a ovest sulla montagna mortissimo mortissimo ve lo pingo ragazzi lì sopra martin amma dietro di me morto bianco morto dove ho pingato ragazzi ce n'è uno è pronto a riftare prima appena l'ho sparata cento cento vai e noi abbiamo c'è di qua ha riftato la serata è quello in volo se lo vedete bianco 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 ancora morto gg 200 metri mamma mia allora vai apri la palla la vedo martico 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 nord non c'è data più marty deve restare lievici mi metto li vedo li vedo provo a chichinare uno provo a chichinare uno no niente ho misato se ne sono due a destra vado a destra vado vabbè ormai siamo tutti a testa quindi che forza c'è gente e sei completamente da sola però aspetta arrivo io arrivo io arrivo pure io tanto gli ultimi li sentiamo tutti insieme adesso tutti insieme vabbè c'è cinque blu uno lì tanto quello dietro li prendo io shield sono finito con marty uno è bianchissimo c'è un altro calciato il bianco si calciato il bianco eccolo lo cecchino io se me lo lasciate mi fanno un favore eh marty non lo so null vabbè c'è chi va da fischio nord è bianco marty ok lascia te l'olè lascia te l'olè lascia te l'olè più in alto devo avere anche io un po' di kill ultimo last ah raga aspetta non dite le kill che facciamo l'ultimo quindi un po' di kill abbiamo l'ultimo va bene lo stai recando vero? ovviamente secondo me comunque non abbiamo fatto meno di prima no no ma sei impazzito ma che stai dicendo abbiamo fatti più di prima eccolo ok dovete fare lo skin dovete fare lo skin io ho 14 io ho le 11 quante tu cucciola? 9 no aspetta quanto? no ne abbiamo fatte 40 stavolta abbiamo fatto 14 io ho 6 non mi ricordo chi Dani io 11 tu in teoria hai detto Matthew e io ho 9 e cucciola 9 sono 40 precise easy 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 easy